Ciao a tutti e bentornati sul canale dell'Otaku dello Svapo Allora oggi altro video unboxing, altro video rapido Andiamo subito a vedere cosa c'è dentro a questo pacco Apriamo Paghetino piccolo ragazzi Andiamo a togliere la carta Andiamo ad aprire E tiriamo fuori le cose in ordine Allora qua ci sono 5 vetrini per il Moradin 25 Quindi sono 1, 2, 3, 4 e 5 Le ho ordinati per mio padre perché col lavoro che ha è facile che si rompano Togliamo questa custodia Abbiamo l'Ammit MTL RDA Che non vedo l'ora di provare C'è una scimmia che è una cosa pazzesca Poi degli aromi nuovi ragazzi Manhattan Project Little Boy Un altro Manhattan Project Ragazzi non chiedetemi di leggere il nome perché farei una brutta figura E l'ultimo del Manhattan Project Il Trinity Poi un aroma della Monkey Naut al latte E un altro aroma della Monkey Naut al Janduja Proseguendo Cambiando di nuovo marca di aromi Il Santorini della Real Il Kotao sempre della Real E il ST John sempre della Real Ragazzi video rapido di unboxing che finisce qua Come al solito ricordatevi di iscrivervi al mio canale Se le mie opinioni, le mie pareri e le mie recensioni vi interessano Lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto Oppure una critica al fatto che sia costruttiva Io vi do appuntamento al prossimo video E vi saluto con una svapata Ciao ragazzi Ciao